E' Maria Cristina Cirillo, laureata in giurisprudenza all'Università degli Studi di Teramo, la vincitrice del premio intitolato a Pier Francesco Cifaldi, studioso di diritto prematuramente scomparso. La cerimonia di consegna del premio si è svolta ieri pomeriggio a Teramo, nella Sala delle Lauree della Facoltà di Giurisprudenza. Maria Cristina Cirillo ha discusso una tesi in diritto costituzionale dal titolo «La competenza legislativa esclusiva delle regioni a statuto speciale, contenuto e limiti». Il concorso, bandito dalla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Teramo, attribuisce un premio di 1000 euro messi a disposizione dalla famiglia Cifaldi a favore del candidato che abbia presentato la migliore tesi di laurea magistrale in giurisprudenza, con una votazione non inferiore a 105-110.